Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A27 tra lo svincolo di Treviso Nord e l'allacciamento dell'A28 per un incidente tra due auto, due le persone coinvolte. I pompieri accorsi da Treviso hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale del suo M trasferiti in ambulanza all'ospedale di Conegliano per ulteriori accertamenti. Presente sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrade. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.